No, Fra, hanno rapito mio marito! Chiama subito la polizia. No! 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 Bentornati ad un nuovo video dedicato al simulatore di vita più entusiasmante di sempre, BitLife! Yahoo! Sinceramente credo che questo sarà uno degli ultimi video dedicati a BitLife, almeno fino a quando non andranno ad aggiornare i DLC che già possiedo. Del job pack rilasciato quasi due anni fa mancano ancora tre professioni, spacciatore, modello e vampiro. Lo finiranno mai? Eh, dubito. Ormai si limitano soltanto a rilasciare contenuto meh sotto forma di DLC dal costo di 6 euro l'uno. In ogni caso, la mentale a parte, come avrete sicuramente capito da titolo e miniatura, oggi diventerò uno chef. Uno che famoso. Non vedo l'ora di divertirmi. Prima di cominciare vi ricordo che tutti i giorni da lunedì a venerdì mi trovate in live qui su YouTube a partire dalle ore 7, quindi mi raccomando iscrivetevi per non perdervi nessun contenuto live, short e video. E ora salutiamo il buon NFL, protagonista dello scorso video dedicato, per l'appunto, all'NFL, a Cala Lega di Football Americano degli Stati Uniti. Com'è andata questa carriera? Beh, io non ve lo dico, dovrete scoprirlo da soli. Ma ora diamo il benvenuto a Rosa Marino. Vi giuro, ho passato 5 minuti a pensare ad un nome decente che potesse creare una situazione kek con un cibo. Non mi viene nulla di meglio. Sì, è vero, avrei potuto utilizzare il cognome Lasagna, come dimenticare il sommo unico inimitabile Kevin Lasagna, però non riuscivo poi a concordarlo bene con un nome, quindi niente, beccatevi la signora Rosmarino. Piano, una roba per volta, sono appena nata ma già vedo troppe scritte. Sono stata concepita durante una crociera ai Caraibi, molto bene. Mia mamma è una wedding planner, mentre mio papà è un agente assicurativo. Beh, alla faccia del cazzo, c'ho anche una sorella di nome Matilde e un gattino di nome Thor, che nome tosto. Eh, vabbè, ma che sfiga, ma ha un anno, ma povera Rosa. Possiamo fare un piccolo refresh della vita, poraccia? Io, ma che ca... ma che schifo! In questo scenario mia mamma è rimasta incinta intingendosi in una vasca idromassaggio pubblica, ma che schifo! Ma poi l'immacolata concezione. Vabbè, che schifezza. Eeeh, proseguiamo. Sei al parco e vedi un sacco di cose interessanti su cui lanciarti. Cosa scegli? Un lago, delle foglie, una pozzanghera, oppure la cacca del cavalno? Dai, facciamo i bambini stereotipati, vai con le foglie. Bello, però deve essere divertente quello. Ma no, raga, ma che cosa triste! Ogni volta che vedo in tv un bambino della mia età vorrei essere nella sua di famiglia e non nella mia. Ma frate! Ma poi con la mamma e col fratello ci va pure d'accordo, ma... Vabbè. Ah, yes, gattino time, va che patato. Ah, yes, è il momento della scuola elementare Tucano. Bello il Tucano, beh, bell'uccellino. Se anche a te piacciono i Tucani, smascia like a questo video. E se non ti piacciono i Tucani, smascia comunque like a questo video. Cringe. Due dei tuoi amici si sono letteralmente buttati giù dal ponte per cadere nel fiume. Cosa fai? Ma Roma, questo qua è il classico scenario che i genitori ti mettono davanti. Ah, ma se i tuoi amici si lanciano dal ponte, ti butti anche te? La risposta è... No, mamma. Scendo con calma e nuoto. C'ha ragione la mamma, c'ha ragione. Bello? Posso dare il mio primo bacio a Federico. Che schifo, dov'è? Scappa, scappa! Eui, baci, che schifo! Euuu! Ah, però attenzione, ora potrei avere un appuntamento con Luca. È uno gnoccone, è iperpopolare. Non va bene a scuola, ma chi se ne frega. Per la popolarità questo è altro, daie. C'è l'opzione di dargli un bacino? No, non c'è l'opzione. Vietato darsi i baci, ok, scusate. Oh sì, è il momento degli occhiali, andiamo. Oh cazzo, non la vedo. Ah, vaffanculo, ma era un 5. Io cercavo la Z. Eh vabbè, vada per gli occhiali. Ah, aspetta, attività extracurricolari. C'è qualcosa che ha a che fare? No, assolutamente niente, vero? Tipo una sorta di bakery club. Potrebbe essere carino, ma non vedo niente. Golf, giusto per divertimento. Mi hanno rifiutato. Va bene. Non che si debba essere proprio così tanto atletici per giocare a golf, ma poco importa. Aspetta, ma ci sono le cliques. Posso giunarne una interessata al cibo? Evidentemente no, non esiste nulla. Ragazzini talentuosi. Mi hanno rifiutato. Che si fottano. No, niente drama club, però... Ce l'abbiamo qualcosa. Non abbiamo nulla neanche qua. Benissimo. Forse il drama club alla fine era la cosa migliore, perché se voglio diventare uno chef famoso devo essere anche in grado di stare in qualche trasmissione televisiva. Tipo che ne so, la prova del cuoco, poggers. Mi hanno accettato, bene. Il tuo fidanzato Luca ha la diarrea. Benissimo, grazie mille. Non mi serviva questa informazione, ma lo apprezzo. E in tutto questo a Monte Carlo, quindi nel Principato di Monaco, evidentemente un robot sta per essere eletto sindaco. Non penso neanche che abbiano un sindaco. Cosa sta succedendo? Però gran figata. Cioè, lui teoricamente può lavorare 24 ore su 24 e non dice nulla. Arriverà il giorno in cui anche noi youtuber verremo rimpiazzati completamente da delle EA. E quel giorno me la godrò alla grande. Cosa significa questo cartello? Cartello Threesome più uno. No, frate, no. Proprio assolutamente no. E la mamma mi ha regalato una Lexus. Alla faccia del cazzo. Scusatemi, ma per quanto posso venderla? No, così, chiedo per un amico. Eh, cazzo. Ah, e posso venderla o online o sul black market? Vai online, normalmente. Mi offrono 48.800. Vai, vai. Tenga, signorina TikToker. Tutta sua, grazie. Ora ho i soldi. Gran merda a vendere il regalo della mamma. Ma sinceramente cosa me ne facevo di una macchina da 50.000? Niente. A causa di differenze ideologiche l'Etiopia ha condannato il Nicaragua a sospendere completamente i suoi export. What the fuck? In che modo sono collegate le due... Non faccio domande. Mi sono informato per fare lo chef. Devo per forza andare al community college. Perché questa cosa... Non la so, non ha senso. Uno volendo potrebbe cominciare a 16 anni una carriera nel mondo della ristorazione. Qua no. Qua devi fare due anni di università. In tutto questo il Nicaragua ha ufficialmente attaccato l'Etiopia. È la miseria. Quanti anni sono di community college? Ok, sono soltanto due. E quindi se facciamo un altro anno abbiamo finito. Perfetto. E quindi ora... Mentre Luca mi ha fatto la proposta... Che cosa carina. Certo che accetto, fra. Ma do, ci sto insieme da 10 anni e ne abbiamo 21. Ma che cazzo? Quante relazioni durano 10 anni partendo proprio dai 10 anni d'età? Dai, frate, sposiamoci. Allora, ci sposiamo in tribunale e per la luna di miele andiamo... Bella domanda. In Vietnam. Bello il Vietnam, fra. Costerebbe solo 3.000. Vai, famolo. Tanto c'ho i soldi della macchina. Bellissimo. Gran figata. E ora c'ho pure i suoi soldi da usare. Molto bene. Questa cosa mi rende felice. E riuscirà il nostro eroe a trovare un lavoro? Perché non sempre appare, eh? Anzi, in realtà, prima di farlo apparire dovrei lavorare per 3 anni nel settore della ristorazione. Ma non c'è nulla che abbia a che fare col settore della ristorazione. Vabbè, Mattia, ma c'è il baker. No, perché quella è la carriera da panettiere. Quindi non ha nulla a che fare con la ristorazione. E ma più in basso ho visto un qualcosa che ha a che fare con i fast food. No, perché questa qua è una carriera apposita per il mondo dei fast food. È stupida come cosa? Assolutamente sì. La cosa sbattosa è che mo' dovrò continuare ad aprire e chiudere, aprire e chiudere, aprire e chiudere, finché non trovo un lavoro di quelli che sto cercando. Eccolo qui. Cameriere. Vai, andiamo a fare la cameriera. Su, su, su. Quale di questi piatti sceglieresti come tuo ultimo pasto? Un pad thai. Buono il pad thai, fra. Ok, mi hanno assunto. Punto, perfetto. Ora teoricamente devo lavorare per tre anni in questo mondo, magari aumentando un attimino le ore. Tipo da 38 a 42. E siamo incinti. Bene. Non ora, non ora. Fatemi prima di diventare uno chef. Non ora, Luca. La mamma c'ha la diarrea. Grazie. Ripeto, non mi interessa. Siamo tra l'altro diventati capo sala. E quindi, mentre il Nicaragua si arrende all'Etiopia, devo lavorare un altro anno soltanto. Salutiamo Kinan, il gatto che purtroppo ci lascia dopo un sacco di tempo. Te che cazzo sei, Erminia? Via. E ora, teoricamente, mi ritrovo con i miei tre anni di esperienza. Con questi tre anni di esperienza posso cercare un lavoro come chef apprendista. Non lo vedo. Bello. Devo di nuovo fare avanti e indietro, vero? Che botta di vita. Che divertimento. Perché tra i lavori part-time c'è Sniffa Ascelle? Ma poi per 12 euro l'ora. Cioè, io non so se annuserei Ascelle per 12 euro l'ora. 20-25, magari sì. Qua abbiamo uno chef de cuisine, ma per fare lo chef de cuisine devo essere un sous-chef. E per essere un sous-chef devo essere uno chef. E per essere uno chef devo essere un apprendista chef. Userei dire, no? Ah, niente, niente. Che cazzo? Ma io vado davvero a fare il monaco. Executive chef. Cosa fa l'executive chef? Ah, è oltre lo chef de cuisine. Giustamente, quello più in alto. Sì, però io devo partire da sotto. Dal basso. Più giù. Signori, è successo. Apprendista chef. Mi bastano tre anni di esperienza nel settore. Ci siamo. Ti prego, faccela. Ti prego, faccela. Ti prego, faccela. Quali sono le tue aspettative per il salario? Porca merda, che domanda schifosa. È una domanda a cui non saprei rispondere neanche Irl, ma... Facciamo che mi interessa di più trovare il posto giusto. Ah! Come direbbero i giovani. Sì! Grande, Rosa, ce l'abbiamo fatta, cazzo. Allora, punto primo, ore di lavoro, passiamo da 38 a 42. Ha senso? Assolutamente no. Anzi, fai 44. Rischia lo stress. Rischia il crollo psicofisico, ma almeno se lavoriamo tanto... E lavoriamo anche bene, perché noi ci impegniamo. Vero, Rosa? Ah, guarda come lavoriamo tosti. Magari è più facile che ci promuovano, giusto? È ok, Luca. Ora, quando vuoi, possiamo avere un bimbo. Perdonami, ma non volevo tenerti lì in attesa. Ho portato la mia nipotina Paola a giocare a golf. Ho una domanda. Paola, quanti anni ha? Ha un anno. Che cazzo fai? Come giochi a golf con una bambina di un anno? Aha, bello questo aumento del 5% dopo due anni. Magari funzionasse così anche qui in Italia. E sono diventata chef turnant. Cos'è uno chef turnant? Io non ho la più pallida idea. Però, Luca, celebriamo con del sesso e... No, niente bambini, come non detto. A livello di stress siamo messi bene. Direi di sì, top. Ora ho una domanda importante. Che cosa fa lo chef turnant? Chef turnant cosa fa? È colui che rimpiazza i vari chef di partita durante i loro congedi e le loro assenze. Ah, vabbè, sono un supplente. Fico. Il salare è stato ulteriormente alzato. Adesso è di 42.115 euro. Tipo 3.500 euro al mese. Alla faccia del cazzo, magari. E yes, dopo soli tre anni come chef turnant siamo diventati degli chef guard manger. Che cazzo sono ste robe? Chef guard manger. Eccolo. È colui che si occupa, a differenza dello chef, so siede tutte le preparazioni fredde. Gelatine, antipasti, salse fredde. Allestisce i buffet e si occupa di sfilettare il pesce e di proporzionare la carne. Ok. Cose. Va bene. Sono il cuoco antipastiere, essenzialmente. Mentre Luca è diventato copilota. Alla faccia. Che coppia scoppiante. Attenzione, un prompt legato al lavoro. Incredibile. Esistono. Mentre sei al lavoro ti rendi conto che una bistecca che è stata ordinata 45 minuti fa non è mai stata cotta. Allora, punto primo, io non centro niente. Il mio compito è proporzionale la carne, non cucinarla. Giusto, giusto. Quindi, punto primo, che cazzo vuoi? Punto secondo, cosa vuol dire compit? Ok, è quello che immaginavo. Di fatto non fanno pagare la bistecca a chiunque l'abbia ordinata. Mi pare giusto. Però di certo, uno, non te la caccio alle microonde. E due, non te la scambio con nessun'altra bistecca. Mi sembra la cosa più giusta. Oh, comunque sono dieci anni che sono sposata con Luca. E stiamo insieme da venti. Marò. Sesso? Niente bambini. Cioè, quella volta lì è basta, è successo. In tutto questo ho appena notato che i miei colleghi mi odiano. No, vabbè, ma il capo si chiama Gianna Pomodoro. Ma questa cosa è bellissima. Fra, diventiamo amici. Mi ha detto di star zitto. Vabbè, ma che cazzo? Ti ho solo chiesto chi sia meglio tra Pessi e Penaldo, eh. Non è che abbia fatto chissà... Marò. Era per fare due chiacchiere, Giannina. Ma poi questa qua come ci è arrivata a fare il mio supervisore se è un apprendista idraulico? Eh? Chi è meglio? Pessi o Penaldo? Zitta. Vabbè, scusa. I miei amici stanno girando tutti Only... Davvero c'è OnlyFans? Frada, quando è che hanno messo OnlyFans su BitLife? Ma perché? Ma lo giocano i bambini sto gioco... Ma per favore, cazzo. Fa vedere. Ah, ma in tutto questo... Casetta? Eh minchia, magari una casa con due camere da letto e due bagni a 93.000 euro. Se... In quale parte d'Italia? Dove siamo noi? A Milano? 93.000 euro è un garage. Mi ha detto no. Eh, ok. Scusa. Duplex nuovo, tre camere da letto, quattro bagni. Eh? Perfetta, vai. Facciamo la mattata e la compriamo col cash. Vai. No, in realtà una persona normale farebbe il mutuo. Vai col mutuo. Giannina, come stiamo, eh? Mi odia Gianna. Gianna! Ehiè, siamo diventati dei junior su chef. Cazzo, incredibile. Mio nipote Giuseppe non è più intollerante al lattosio. Grande, frà, siamo in due. Smash a like anche tu, Giuseppe, se stai guardando il video. Alla grande. E iscriviti al canale. Aha, dovrei comprare una macchina. Eh, vabbè. E allora il mutuo lo pagheremo un'altra volta. Cosa ci prendiamo di bello? Ci prendiamo? Boh, un SUV della Nissan. Compralo col cash, cazzo. Al mio fratellato Gian Battista prudono le chiappe. Beh, buono a sapersi. Comunque non sta succedendo nulla di nuovo, incredibilmente. Dopo la guerra tra Etiopia e Nicaragua, clamorosamente il mondo è tornato alla normalità e la tranquillità. Al mio fratellasso Gian Battista non prude più il culo. Beh, è passato un anno, eh. Però, GG. E comunque posso finalmente pagare il resto in mutuo? Posso saldare il tutto? Ma sì, famolo. Ci siamo un attimino distrutti il conto in banca, ma va bene così. Tanto adesso arriva un'altra promozione. Stai a vedere? Sono il cuoco salsiere, un sussier. Giusto per capire, chi è che c'è sopra di me al posto di lavoro? Perché non credo che ci siano molte altre persone. No, non c'è nessun altro sopra di me. Cioè, io sto aumentando di grado senza che ci sia nessuno. Non ha senso. Ce l'abbiamo fatta. Siamo di nuovo gravidi. Vai, tienilo il bambino stavolta. Allora, anzitutto il doppio cognome Marino Maresca è meraviglioso e quindi lo lasciamo così. E per quello che riguarda il nome di questa bimba, siccome siamo stronzi, la chiameremo Marina Marino Maresca. Poveraccia, cazzo. Yes, ragazzi, yes. Siamo dei sous chef, cazzo. Vacciniamo la bimba, ma soprattutto siamo dei cazzo di sous chef. Mio marito cosa fa di lavoro? Fa il pilota. Ah no, fa ancora il pilota. Però, oh, posso dire che come coppia, copilota sous chef. Bellino. Sta bambina non ha dei genitori, praticamente. Altro prompt per il lavoro. Mio Dio, ne capita uno ogni dieci anni, ma quando arriva che bello. Al lavoro vedi un cameriere droppare un pezzo di pane e rimetterlo sul piatto di un cliente. Cosa fai? E lo faccio mangiare al cameriere. Fra che merdone. Ma in tutto questo, cioè, chiedo per un amico, per caso possiamo prendere un animaletto strano da tenere a casa? Ci sarebbe una puzzola. No, non mi interessa la puzzola. E cavolo qua, avremo un magico bradipo, ma il bradipo l'ho già avuto. Ancora mi manchi, Antonio, ancora mi manchi. Quindi dopo il sous chef cosa c'è? C'è lo chef de partie, dopo lo chef de partie c'è l'executive chef. Sì, di questo passo arrivo a essere uno chef famoso intorno ai 55-60 anni. Vabbè, ci può stare in realtà, eh. Yes, abbiamo fatto l'achievement della carriera dello chef, bellissimo. E intanto Dorotea mi vuole portare a un concerto di Cher. Ma no, ancora i concerti fa la nonna Cher, andiamo, andiamo. Ah, e sono di nuovo incinta, 45 anni. Io non me la sentirei a 45 anni, fra. Stai scherzando, è rischiosissimo. Il marito della mia migliore amica ci sta provando con me. No, fra, io sniccio di brutto. E immagino che abbia apprezzato. Ma che cazzo fai, Patrizio? Così chiedo, posso salire di grado oppure sono costretto a fare il sous chef per sempre? Beh, intanto mi ha dato un bello aumento del 15%, il che posso dirlo pipo pog. Attenzione, chef de cuisine. Potrei fare il salto da sous chef. Quanto guadagno però adesso? Guadagno 85.000. In realtà sarebbe anche un bello aumento di stipendio. Eh, fammi provare, chef de cuisine. Non posso. Vabbè, ok. Ah, ok, mi han promosso mo'. Perfetto. Ma sentite, ma siccome sono chef, per caso posso scrivere un libro? Posso fare qualcosa? Mi pare di no. I capelli stanno diventando grigi. Cosa fai? Allora, premesso che questo problema non mi riguarderà. Ma chi se ne frega? Cioè, il grigio va benissimo. È perfettamente normale, è perfettamente naturale, non succede niente. Anzi, il grigio è anche bello. Cioè, è morta la mamma. Addio, mamma. È stato un piacere. Alla faccia del cazzo, mamma. Porca minchia. Raga, siamo ufficialmente uno chef esecutivo. Più in su di così non c'è niente, mi viene da dire. Abbiamo schippato un paio di step, mi sa, vero? Comunque qua hanno parlato di capelli grigi, ma ancora non li vedo, grigi. Eh, i capelli, siamo sinceri. Yes, ce l'abbiamo fatta. Siamo ufficialmente degli chef amogli. Che bello. E ora sto sgagando di brutto. Vabbè, andiamo dal dottore. Salve, il dottor gigante. Che nome fico, il dottor gigante. Ora non mi sgago più addosso, ok? Buono. L'unico mio interesse adesso è riuscire a partecipare a un programma o scrivere un libro di cucina. Poi, io sinceramente ho finito la mia carriera. Aha, la Vigilanspress ha accettato di scrivere il mio libro. C'è, c'è che ne so, un libro di cucina? No, non esiste. Però potrei fare personal history rosa marino. Andrà di merda, vero? Sicuro? Eh, beh, 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 invece è stato un buon libro di cucina. Fingiamo che lo sia, ok? Sono tutte quante le mie ricette preferite di quando ero bambina e bla bla bla. Per pubblicizzarlo posso andare anche, che ne so, a un talk show. Niente, nessuno mi vuole. E Marina Marino Maresca vuole andare a studiare chimica? Eh, va bene, te la pago io anche. Ma cosa vuol dire che non è contenta? Pure stronza l'abbiamo fatta a sta figlia. Marò! Vabbè, col nome che si ritrova capisco anche che si è incazzata, giustamente. Pubblicità? Aha, una catena di pizze. Vai! Questo, vedi, aveva che fare. Vedete? Hanno senso queste cose. Pubblicità per un hotel. Ma sai che l'hotel, volendo, potrebbe aver senso? Ah, infatti, ah, infatti. Perché alla fine sono collegate. Tutto quanto ha a che fare con l'ospitalità. Ha senso. E nessuno mi vuole, perché? Attenzione, altro libro. Questo qua lo chiamiamo Una storia di poppe. Rosa Marino. Assolutamente no. L'educazione. Mi piace questo. Meh. Buon libro, non bene come il primo. Comunque clamorosamente non ci siamo mai lasciati, eh. Io e il marito stiamo insieme da una vita. Non succede mai in Bitlife una roba del genere. Dai, regà. Terzo libro di cucina, Rosa's Time. Mmm... Best seller. Miglior libro di cucina. Ce l'abbiamo? Ma poi, regà, ho 63 anni. Ma cosa devo fare ancora? Io sto ancora lavorando da 40 anni nello stesso posto. Ti giuro, voglio solo arrivare in tv. Arrivo in tv, sono contento. Cazzo. Cazzo! No, fra, hanno rapito mio marito. Chiamo subito la polizia. No! 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 Mi hanno rapito il marito. Ma perché? Ma perché mi hanno rapito il marito? Ma in base a cosa? Gli avrei dovuto dare i soldi, è vero, col senno di voi. Io spero sia ancora vivo, però. Nessuno mi vuole un talk show neanche per parlare di quello che mi è successo, no? Ah, un altro libro. Che palle. Easy. Ricette semplici. Buono. 82. Fermi, 82. Mandami in tv. Ma che cazzo! Sì, Little Emmas, di nuovo. Sì! 86. Dai, ora mi vorrai... Non mi vogliono in tv. Perché non mi vogliono in tv, sti coglioni? Minchia, da quanti anni è che lavoro al Marathon Diner? Perché sono tipo 50 anni. Ma ho 45. Alla faccia del cazzo. Fatemi scrivere un altro libro. Cazzo! Altra pubblicità? Fast food, un milione e quattro. Vai. Aia. Mi sono tencato la reputazione neanche troppo. Da 89, c'è 85. Ma ho guadagnato un milione e quattro. Alla faccia. No, mi hanno chiamato piscialetto durante un'intervista. Ma me lo dici così che sono finito in tv? No, no, la ignoro, la ignoro. Sono una signora. E ho perso 25 di popolarità. Why? Perché non ho risposto. E signori, sono ufficialmente pronta per la pensione dopo 56 anni di lavoro. Regà, 59 in realtà. Perché ho lavorato tre anni da un'altra parte, minchia, che pazzia. E niente, regà, ho smesso di lavorare, è calata anche la fama. È finita. Non siamo mai riusciti ad andare in tv. Che tristezza. Siamo ufficialmente per uscire dalla scena. Siamo sempre meno famosi. E ora soffro anche d'artrite. Vabbè, poveraccia. È finita. Non siamo più chef famosi. Ci sta, abbiamo 86 anni. Ci siamo... Siamo in pensione. Mio marito non è mai più tornato. Dopo 20 anni non l'abbiamo più visto. Aspetto soltanto il giorno in cui Rosa ci abbandonerà. Grazie. No, no. Niente, vai Codin. Non sono il dottor House. Sì! Ho un pangolino! Ho un pangolino! Che bello. No, tieni, tieni. Andiamo a fare la passeggiata col pangolino. Posso farlo? Yes! Yes! Immaginatevi questa nonnetta di 96 anni che va in giro con un pangolino. Bellissimo. O forse riesco ad arrivare a 100 anni per la prima volta in non so quanto tempo. Non credo di esserci neanche mai arrivato a 100. Ce la faccio? Ce l'ho fatta! Sono morto a 100 ma ce l'ho fatta! Clamoroso! Minchia, incredibile. Quindi 1 vita da chef, 2 cent... Cent... Cento anni! Rosa ha trascorso la stragrande maggioranza della sua vita nello spotlight sotto i riflettori come chef famosa. Ah no? Eh? Bella vita questa Rosa, bella vita. Peccato però non essere mai riuscita ad arrivare in tv. Sta cosa un pochettino mi sta qua, mi dà fastidio. Che palle! Spero soltanto che il pangolino adesso vada in buone mani. Master, è stato un piacere. Master, è stato un piacere oriented sportive. ày, farmacolo. Dell'urperi? E' stato acciamato.